Un futuro nuovo ti sta chiamando. Un mondo che fino a ieri credevi lontano da te. Uno stile di vita che oggi vedi tuo e fatto di tanti, tanti amici. Entra a far parte della Croce Rossa italiana, un movimento che da sempre opera nel campo dell'aiuto umanitario con tutte le sue componenti. Corpo militare. Infermiere volontarie. Donatori di sangue. Comitato femminile. Volontari del soccorso. Pionieri. Per saperne di più, rivolgiti alla Croce Rossa italiana, Comitato Provinciale di Biella. Comitato Provinciale di Biella